Eccolo qua, buonasera, buonasera. Gramellini, stasera però vado un po' di fretta e vorrei correre a mangiarmi un kebab finché è legale che poi da domani mi entra in azione il ministro per la sovranità alimentare. Saremo tutti quanti obbligati per legge a mangiare soltanto pizza e spaghetti. Tanto che io adesso con questo governo Meloni, più che un pericolo fascismo, vedo un pericolo carboidrati. Ci aiutiamo che ingrasseremo tutti tantissimo. Quindi cominciamo con le previsioni della prossima settimana, date ovviamente in esclusiva dalla mia agenda. Prego dalla regia. Va, 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 molto bene, molto bene, molto istituzionale, perfetto. Giuriamo sull'agenda di Saveri Le Monde. Allora cominciamo con la giornata di domani, domenica 23 ottobre, quando si terrà il celebre rito della campanella. Cioè Mario Draghi passerà la campanella da Presidente del Consiglio a Giorgia Meloni. E in esclusiva sono in grado di farvi sentire il suono che farà questa campanella di fronte al governo Meloni. Sentiamo. Ecco il giudizio della campanella di Palazzo Chigi. Come sentite, rispetto al nuovo governo è molto chiaro, rispetto a Draghi, questi sono dei dilettanti allo sbaraglio, come alla corrida. Ecco. Oh, lunedì invece Silvio Berlusconi continuerà a dare i numeri, ne avete parlato prima in trasmissione. Questa settimana Berlusconi ha detto che ha riallacciato i rapporti con Putin, si scambiano parole dolcissime, regali. E lunedì Silvio Berlusconi rivelerà di aver riallacciato i rapporti anche con Vanna Marchi, con il maestro di vita Donna Simiente, con il cacciatore che ha sparato alla mamma di Bambi. Povero Berlusconi, non è cattiveria, su è palesemente un rimbambimento senile, tanto che la prossima settimana Berlusconi non riconoscerà neanche più i parenti, nemmeno i nipoti, ma non solo i suoi, neanche quelli di Mubarak. Per dire quanto è svanito. Oh, la prossima settimana poi la situazione politica inglese assomiglierà sempre di più a quella italiana. Questa settimana l'Economist, alla vigilia delle dimissioni di Leeds Trust, soltanto dopo 45 giorni di governo, l'Economist ha fatto questa copertina, paragonando la situazione inglese alla Britaly, la definita, proprio perché dice che la politica inglese si è molto italianizzata. Infatti martedì verrà nominata, primo ministro in Inghilterra, la leader del partito Brothers of England, Georgette Melons, famosa per il discorso I'm Georgette, I'm a woman, I'm a mother, I'm Anglican. Sempre questa settimana la nuova maggioranza parlamentare ha invece presentato due disegni di legge che pur non andando a toccare direttamente la 194, se passassero comunque ostacolerebbero l'accesso e il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Maurizio Gasparri chiede che sia data personalità giuridica sin dal concepimento. Vediamo il lato positivo della cosa, se succedesse anche i feti potrebbero protestare contro Maurizio Gasparri. E questa settimana proseguirà l'assalto della destra all'aborto, verrà infatti presentato un disegno di legge per far fare ingresso all'utero delle donne nel demanio dello Stato. Giovedì prime divisioni però all'interno della maggioranza di governo, infatti il ministro Giuseppe Valditara che è il nuovo ministro dell'istruzione e del merito avrà da ridire contro il ministro dell'agricoltura Lollobrigita in quanto il suo più grande merito è essere il cognato di Giorgia Meloni. Però verrà difeso dalla ministra della famiglia, famiglia contro merito, chi vincerà lo scopriremo. E sempre la prossima settimana proseguono le sanzioni contro la Russia e ovviamente anche le inevitabili ripercussioni sulla nostra economia. Per esempio non so se sapete, è una notizia vera, poiché non possiamo più importare dalla Russia la polpa di betulla rossa, qui da noi è crisi della produzione di carta igienica, perché dipende dalla betulla rossa, la polpa di betulla rossa importavamo dalla Russia. E quindi la prossima settimana l'Unione Europea venerdì discuterà di mettere un tetto all'attività intestinale, shit cup si chiamerà, e il piano del governo italiano invece prevederà che si potrà andare al bagno un'ora in meno al giorno e ovviamente tutti gli istitici saranno considerati dei veri patrioti. Oh, è provato di governo, però sabato ci sarà il primo rimpasto di governo. Eh sì, perché questa destra non si tiene e quindi sabato prossimo Giorgia Meloni sarà costretta a presentare una nuova lista dei ministri. Per esempio al Ministero del Turismo, al posto della Sant'Anchè, andrà direttamente il bagnino del Twigga di Forte di Marmi, al Ministero per la Famiglia, la Natalità, un cugino della Meloni, obiettore di coscienza, mentre al Ministero del Mare, questo nuovo ministero che si è inventato dalla Meloni, il Ministero del Mare del Sud, che sembra più un ristorante di pesce, invece è proprio un ministero. Ecco, al Ministero del Mare andrà un delfino, che sono degli animali molto intelligenti e secondo Gasparri ha anche una personalità giuridica. E per concludere questa nostra agenda, in realtà è il momento, lo sapete, che le vecchie stanno aspettando lì trepidanti, che trattengono proprio il respiro con i denti, perché vogliono sapere che cosa farà il loro beniamino. Massimo Gramellini, quando non... Riccardo, tutte le settimane... Tutte le settimane io vi dico che, cari vecchi, vi dico che cosa fa Gramellini, quando non è qui in studio, la prossima settimana, Massimo Gramellini, pensate, verrà addirittura ricevuto il Quirinale da Sergio Mattarella, che gli conferirà il titolo di Cavaliere del Lavoro per essere riuscito a lavorare in televisione, nell'editoria, sui giornali, pur essendo incapace in tutti e tre i settori. Un vero talento, complimenti. Il Ministero del Merito, grazie, grazie Saverio, speriamo di non vederla mai più, grazie. A vederci.